Cari amici di Radio Tavagnaco International, siamo felici di comunicarvi che è arrivato un nuovo sponsor e stiamo parlando, signori, dell'inventore Duilio Carneluti con il suo nuovo forno, il forno che ti fa veramente risparmiare, il vero forno friulano, il forno a microvonde. Compra anche tu il forno a microvonde di Duilio Carneluti. Cari friulani, fratelli delle stelle, è il vostro gelindo Pizzinin che vi parla dalle frequenze di Radio Tavagnaco International. Non nascondiamoci dietro un fricco, i messaggi celesti sono inequivocabili. Aprite gli occhi, vi chiediamo solo di aprire gli occhi. Salutiamo la Leontina che ci ha mandato in omaggio un delicatissimo semifreddo alla provade che ha inebriato i nostri sensi. È già finito, Leontina, e ci ha ulteriormente inorgogliti nella nostra friulanità. Cara Leontina, quando arriveranno i nostri fratelli delle stelle, daremo loro in omaggio questo Maraveos Netaruteis. Appuntamenti, ricordiamo che domani ci sarà la consegna della Targala Delfina, la nostra vedova dell'amatissimo Egidio, che si è confermata la donna più vedova della storia dell'umanità, signori. E avanti, stiamo lavorando, però avanti, cosa posso dire? È un pacco, attenzione che è arrivato un pacco, vediamo cosa c'è nel pacco. Signori, signori, oggi potrebbe essere la puntata che cambia la storia di Radio Tavagnaco International e di tutta l'umanità, signori. E' arrivato un nastro, non sappiamo da dove, ma è arrivato un nastro anche con un altro contenitore, che sembra contenere il brodo primordiale, signori. Questo potrebbe essere un messaggio dei nostri fratelli celesti. Un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per Alfredo. Signori, il momento è storico, è veramente storico. Il mio dito che sta per schiacciare Play è simbolicamente al dito di ognuno di voi. È giunto il momento, signori. Schiacciamo insieme Play? Signori, il primo contatto con i fratelli delle stelle è avvenuto. Un piccolo passo per l'uomo, come vi dicevo, ma un grande passo per il friulo. Siamo emozionatissimi. La conferma che i friulani sono i diretti discennenti degli Anunutis è ufficiale. Ma attenzione perché sta squilando il nostro telefono, signori. Pronti? Chi sei? Rispondi. Sì, tio, sono te, Pano. Hai accortato il mio dico Tete? Vengo a fare l'intervista? Dai, tio, fammi fare l'intervista. Facciamo l'intervista, non farei cacacati, dai. Un saluto a te, fratello delle stelle. Dicci da dove vieni. Tio, vengo da Cade dei Pupi, da Bogotantedo. Allora, credo di aver capito bene. Cade dei Pupi, Bogotantedo. Sì, sì. Fratello, è nella nostra galassia? Ma, tio, torno io. Teppano, tua nipote. Dai, tio, non farei cacacati. Mamma, dica, tio, tio. Sì, allora, Gelindo, sono nella tua sorella. Se mio figlio non sei un extraterrestre. Se un cantante rap, voglio un'intervista, dai. Un altro Triesticolo nulla facente. Senti, nipote, chiudi la bocca, prendi la vanga e vai a lavorare. Vai a zappare. Vergogna, vergogna, vergogna. Triesticoli nulla facenti. Sono la vergogna di questa regione. Colta, oltre al nastro, te comandà la minestra di Passoi Triestina che te piaceva. Ma cosa mai? Io quella roba non la mangio. Non la mangio quella roba. Allora, signori, il nostro programma si interrompe, purtroppo. Colpa dei Triesticoli, che non hanno niente da fare, non lavorano mai. Si interrompe il programma. Mi hanno mandato anche la minestra triestina, che deve essere una cosa vergognosa, cattiva e fatta dai nulla facenti in due minuti. Ma insomma, siamo qui, abbiamo fame, è l'ora di pranzo. Assaggiamo sta roba che ci hanno mandato, che uno credeva fosse il brodo primordiale, fossero finalmente i fratelli delle stelle. E invece sta roba, che sarà triestina, sarà una schifessa sicuramente. Saggiamo. Devo dire che è buono di cagarsi però, sa? È veramente buono di cagarsi, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, è buonissimo. Oddio, oddio, sento delle cose, non so cosa... Un pezzo di fricco, vi prego. Vada retro, vada retro, vada retro. Un po'. Grazie a tutti